Ciao a tutti, siamo di nuovo qui. Allora, il compito per i miei alunni di prima A per mercoledì 6 novembre. Poi, se qualcun altro lo vuole fare per esercitarsi, va bene lo stesso. Ci esercitiamo un po' sulla punteggiatura, perché è facile mettere, inserire i segni di punteggiatura sul libro, negli esercizi, correggi, metti, togli un conto. Invece è più difficile ascoltare una frase e scriverla inserendo la punteggiatura corretta. Qui ci sono un po' di disegni che riguardano le frasi che vi detterò. Quindi, attenzione, la prima frase è in lealtà un disegno non ce l'ha. La prima frase è la seguente. Luca, vieni subito qui. Finita. Scrivetela, stando attenti ai segni di punteggiatura da inserire. Invece la seconda, abbiamo messo questo bel disegnino. La frase è Non ti avevo detto di acquistare un tacquino? Già che ci sono, ci butto dentro qualche parolina, è un po' difficile da scrivere, così ripassate anche quelle. Andiamo alla numero 3. La numero 3 abbiamo qui questa bella torta che ce la fa ricordare. E dice Ho comprato tutti gli ingredienti per la torta. Farina, uova, zucchero e lievito. Mi aiuti a prepararla? Attenzione, ce ne sono tanti qua dentro. Poi ancora, ecco qua, dobbiamo usare questa. Non ho capito perché è rimasto così, ma ragazzi, fa niente. La frase è Il prof disse Non copiate durante la verifica. Capito? E questo Non prendetelo come esempio, eh ragazzi. Non prendetelo come spunto. Andiamo su Al folletto. Ma no, mi sono rimasti tutti tagliati. Fa niente, era un folletto bellissimo. Allora, la frase Il folletto attraversò il bosco in tutta fretta. Raggiunse la capanna del falegname e bussò. Lui rispose Oh sonno, lasciami dormire! Finita, il folletto è andato a casa. Altra frase, siamo alla penultima. Qui abbiamo Ecco, sapete perché sto facendo i disastri? Perché Forse dovevo girare da lì. Oh, vedete? Oh, 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 guardate che belle. Questa, questa Una cantina Attenzione, la frase Accadde un fatto davvero inquietante. Si sentirono strani rumori provenienti dalla cantina Anche se non era entrato nessuno. Finita la frase L'ultima Questo è il protagonista Ultima frase Il gatto Entrato dalla finestra È salito sul tavolo Ha rovesciato il latte Poi è scappato in giardino Stop! Vediamo chi riesce a scriverle tutte giuste Arrivederci